Partita da dimenticare quella dell'Aquilia Cireale ieri in casa dell'indifesa pallavolo 5 frondi. Con un secco 3-7 a 0, la squadra accese rimanda all'appuntamento con l'opportunità salvezza, consapevole dei propri errori ma soprattutto dell'indiscussa superiorità tecnica degli avversari. A riguardo, il coach Giuffrida dichiara «Conoscevamo la forza dei padroni di casa ed abbiamo fatto il possibile per contrastarla». Ed ancora, l'avvio del primo set ci ha fatto ben sperare perché la squadra è riuscita a giocare alla pari del 5 frondi per lunghi tratti. Poi la differenza dei valori in campo si è fatta vedere. Ma l'attenzione è puntata già al prossimo scontro. Ottenuta l'agibilità parziale del pallavolcan, l'Aquilia Cireale ospiterà la pallavolo Augusta, a gola asciutta dagli ultimi due incontri. L'Augusta è reduce da due sconfitte, afferma Giuffrida, ed è una squadra più abbordabile che sarà impegnata come noi nella lotta per la salvezza. Occorrerà stare comunque molto attenti e non concedere nulla agli avversari.